Capodanno sicuro sulle tavole degli italiani grazie anche ai controlli lungo l'intera filiera ittica dal mare ai principali mercati della penisola svolti dal corpo delle Capitanerie di Porto. L'operazione di fine anno della Guardia Costiera denominata Candaun ha visto impegnati anche gli uomini del compartimento marittimo di Milazzo. In particolare durante le due fasi dell'operazione sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di poco superiore a 34.500 euro. Nell'ambito delle attività di verifica in mare nel tratto di competenza della Guardia Costiera milazzese sono stati quindi rinvenuti e sequestrati quattro attrezzi da pesca non conformi alle vigenti normative con alcuni esemplari di pesce spada sotto la taglia minima alcuni dei quali ancora in vita sono stati prontamente liberati mentre gli altri sono stati devoluti in beneficenza a enti caritatevoli locali. L'operazione Candaun avviata a inizio dicembre ha visto impegnati tutti i comandi territoriali del corpo delle Capitanerie di Porto al fine di tutelare gli anelli più deboli della filiera ittica ossia le specie ittiche sottoposte a particolare protezione ma anche gli operatori professionisti del settore che con impegno e sacrificio adempiono gli obblighi di legge proponendo prodotti certificati e di qualità e infine tutelare il consumatore finale per evitare possibili frodi e assicurare un prodotto sempre tracciabile e sicuro. In totale nel solo mese di dicembre sono stati effettuati circa 10.000 controlli lungo l'intera filiera ittica commerciale con impiego di mezzi aerei navali e subacquei della guardia costiera. Andiamo avanti senza abbassare la guardia e salvaguardando un settore fondamentale per l'economia del nostro paese ha commentato il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina.